L'ingaggio di Cospet sulla corsia inferiore Quando vai ad ingaggiare in mezzo a 5 persone E non c'è follow up da parte del tuo team Vuol dire che c'è stato un errore di comunicazione Vuol dire che hai cercato di innescare Una scintilla ma non ha fatto partire La polvere da sparo per L'ingresso nello scenario E quindi devi andare proprio a riscrivere Completamente tutto da zero Devi risentare un attimo tutta la situazione E penso che questa seconda draft ci Permetterà di vedere quelle che sono Alcuni assi della manica perché Ok il flex di Lulu in corsia centrale Era una bella idea ma signore e signori Entriamo nella selezione campioni e andiamo a scoprire Insieme che cosa andranno a giocare Samsung Morningstar e Campus Party Sparks. Inoltre ricordiamo Una cosa ogni partita Vede il cambio di selezione del side Prima partita Sparks essendo il seed Più alto hanno avuto la possibilità di scegliere Il blue side in questa partita sono i Samsung Che invece scelgono il lato blu della mappa E i ban Sembrano distribuirsi altrettanto bene Con una deviazione su Draven Comunque non vogliono più correre quel rischio Penso più che altro che non vogliono correre quel rischio Stando dal lato blu della mappa Perché quel Draven sarebbe direttamente un counterpick Nella maggior parte dei casi di selezione Da parte di Samsung Morningstars Burgot è open Ecarim è open Lucian è open Per Nashik vogliono andare a dare il bullo da corsia Al loro tiratore Ok scelta interessante Considerato anche Perché Silas lo stanno tutti ignorando? Non lo so Davvero? Onestamente non me ne è capacito Tutti lo fanno ignorando Prima l'abbiamo visto come secondo ban Come primo ban nella seconda rotazione Degli Sparks Adesso proprio ignorato un'altra volta Isfo solo sa giocare Virau lo sa giocare Ci sono tanti power pick disponibili Ma arriva Orn per Asidi Asidi vede che Orn stavolta non è stato bannato Robin abbiamo un over su Nunu Ok ok Brom Non vuoi lasciare Lucian Brom agli avversari E non vuoi che prendano Brom contro Orn Andando a counterare quel campione Parlavamo di Silas Sembra apparire almeno come over da parte di Samsung Morningstars È una possibile selezione Per la corsia superiore Silas contro Orn No di nuovo Ekarim Puntano di nuovo su Ekarim invece E Silas è preso adesso Allora qui è una situazione molto interessante A livello concettuale Il primo trittico dei Samsung Perché abbiamo il triple flex Abbiamo Ekarim top giungla Abbiamo Silas top giungla mid E abbiamo Lucian Che virtualmente Per quanto non sia un campione di Acefoss Potrebbe andare in corsia superiore Te lo immagini Acefoss Che lui giocava una queen eccezionale Quindi non è estraneo A selezioni di questo genere Intanto arriva Per la corsia inferiore Degli Sparks Tristana Draven è stato bannato Quindi comunque vanno su un campione Estremamente prestante In questo meta Qualora dovesse essere Lucian Nelle mani di Nashik Abbiamo un bullo da corsia Contro un campione Da hyperscaling Con Brom a fare Da frontline E anche Orn Per catalizzare La piccola Yord Dal cannoniera Buon trittico Da entrambi team Penso che generalmente I Samsung Vadano a mantenere Più flessibilità Ancora ignorata Adora Kyle Vedremo se Farà capolino In una delle due composizioni Prima o poi Lungo la serie Però Chi lo In mano a chi la giocheresti In mano a chi la metteresti Kyle Bella domanda Bella domanda Chi la giocherebbe Perché sincero Nessuno dei giocatori Di entrambi team Mi dà quell'idea Di Io gioco Kyle Virau Davvero? Sì Come mai? Dato il suo stile di gioco Dato come ha performato Con Yasuo Come ha performato Su campioni Che hanno dei power spike Ben delineati Dai loro livelli O dalla loro build Metalia anche Vedremo Vedremo Viene bannato Gragas Viene bannato Kratos Due dei migliori pick Di Robin IV Visto che non ha ancora Selezionato il jungler Andare a mitigare Quello che sono I possibili pick Di Robin È una scelta Molto intelligente Da parte di Samsung Morningstar Adesso Prima selezione Della seconda rotazione Da parte degli Sparks Stessi Vedremo cosa andranno A mettere dalla loro Quella è V per Robin Che torna Ma stavolta Non è Camille a utilizzarla È Camille a dover affrontare V Che si ripresenta In 9.6 È un campione Completamente nuovo Ed è un campione Finalmente forte È di impatto È efficace Non è facile da giocare Però Ma se guardi La composizione degli Sparks La capacità di lockdown È enorme E ovviamente Dall'altro lato Devono aggiungere Altro lockdown Quella è Sona Quella è Tariq È Lucian Top Te l'ho detto Quello era Lucian Che poteva flexare E i Samsung Morningstar Vanno a giocare Sona Tariq Con il triplo flex Della muerta Della muerta In prima rotazione Oh Questa è una draft Che mi sorprende Da parte di Samsung Morningstar Queste sono Ho come l'impressione Che i Samsung Morningstar Ieri sera Abbiano guardato I playoff nordamericani Abbiano letto Tra clan 9 di TSM Sì no Letteralmente Stanno prendendo Tutto quello che ha funzionato ieri E lo stanno facendo funzionare oggi Librid mette invece le mani Su Cassiopeia Quello è bello da vedere Perché abbiamo No effettivamente Potrebbe essere Virau A giocare Lucian Non abbiamo considerato Anche quel flex Ed Acefoss ha già giocato Silas all'interno del campionato E quindi Sarebbe molto più sensato Lucian mid Non lo vediamo Letteralmente Dai tempi in cui Perkz giocava in corsia centrale Ancora Era È un po' di tempo È un po' di tempo Che non si vede Lucian In corsia centrale Ma lo vediamo contro un mago La differenza è che Questo mago Rispetto a molti altri Può andare a rendere La vita di Lucian Un incubo Se la situazione Viene gestita Bene a livello di Miasma E a livello di lockdown Da parte di V Stavo giusto per parlare di quello Il Miasma Perché nel momento in cui Lucian risiede all'interno del Miasma Non può adasciare Non può sfruttare Uno dei suoi strumenti Più importanti La mobilità Lucian si basa totalmente Sulla mobilità Di fare quei trade veloci E poi O scappare O continuare l'ingaggio Ne approfitto però Per una parentesi Perché Ancora molti Non sono abituati Al meta di Sona Taric In corsia inferiore Che cos'è Sona Taric? Perché è stato selezionato Da parte di Nashik Sona Sona viene giocata In corsia inferiore Come Happy Carry Che utilizza La Frostmancy Come strategia Ovvero Va a prendere La cleptomanzia Va a prendere Il volere della regina Il vantaggio del mago ladro Perdono Il volere della regina Più fragile del gioco Con Taric Taric con il guardiano Sona con la cleptomanzia Sona viene buildata Come Full AP Full AP Carry Da corsia inferiore E appena prende L'abbraccio serafico E il terrore dei lich I lich Non sono gli unici Ad aver terrore Di quel pick Ma signore e signori Entriamo Sulla land degli evocatori Per quello che è Il secondo match Di questa serata Tra Samsung Morningstar E Campus Party Sparks Samsung Morningstar Al comando Ora dal lato blu Della mappa E un po' Vediamo che cosa Andranno a fare In questa partita Eccoci qui Eccoci qui E da casa Ancora una volta Con i vostri hashtag Hashtag SMSWin Se pensate che questa Sarà la partita Che porterà i Samsung A Match Point O hashtag SPKWin Se volete invece L'1-1 Con palla al centro Qua Samsung Morningstar Immediatamente aggressivi Tentano Li invidi nei confronti Di Robin Addirittura lo vanno a zonare Un po' di danno A parte di Esfos E una Si mette anche a ballare Un po' di disrispetto Da parte sua Un po' di visione presa Rallentati i due membri Di Samsung Morningstar Camille Esfos in una brutta posizione Bello però Il dash difensivo Costringono però Camille all'utilizzo Del ghost Un po' eccessiva Qui l'invasione Hai Come prima Si hai perso Un incantesimo Del evocatore Letteralmente Ok che il ghost È uno degli incantesimi Del evocatore Con il cooldown Più basso All'interno del gioco Però È comunque un sacrificio Durante le fasi iniziali Di partita È un sacrificio inutile E quello è il punto Voglio dire Vabbè Comunque 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 Lato superiore Della mappa Per entrambi i jungler Con Camille Che però Non riceveva un push A questo giro Camille Tutto sommato Un pull Dalla sua Con il talismano Del cacciatore Startando dei lupi Non ha nessun problema Di pulizia E Camille Lo vediamo di nuovo Con il conquistatore Quando Ecarim Si presenta in giungla Con il conquistatore Ci aspettiamo Un Ecarim Con gemma del guerriero Il prima possibile E quindi un Ecarim Che vuole andare A calcare i tempi Di build Di V Dall'altro lato Altre cose Importanti O fuori meta Da far notare No Le rune sono tutte Abbastanza standard Questo però è interessante Da far notare Come Camille Sembra voler andare Per quella che è la pulizia Completa del lato superiore Della mappa O forse no Sembra aver cambiato idea Perché si stava Aveva spostato Il blue buff Sulla posizione Per poi Aggredire il gromp E sortare le cariche Della Q Invece decide Di andare Per l'aggressione Sull'arco cranchio Intenta tirare L'ingaggio Da parte degli sparks Ai danni Inashic Costretto al flash difensivo Utilizzato all'ustione Da parte di Cospect Il counterplay Di Sonataric È questo Devi andare ad ingaggiare Devi andare a massacrare Sona Prima che ci siano I livelli giusti Per impedire Qualsiasi tipo di ingaggio Sono lì Che come vediamo Non sta effettivamente Farmando Non è il farm Che dà oro a Sona È la frost manzia È la possibilità Di continuare Ad alternare La kleptomanzia All'oggetto da support Basato su potere magico Ace frost trade Molto aggressivo Con acidi È normale È normale Che sia così Quando sei Allora in generale Sai la sea trade Li vince a mani basse Contro i tank Grazie a quello che È l'utilizzo Del king's layer Una volta che sei Bassione ha capiti Vai a curare Ancora una volta In ingaggio qua Sulla corsia inferiore Sembra però Questo giro Che simpi Prenderà lo stun Da parte di Cospect Enz Trade che finisce Alla fine Alla pari Con robin Però lì presente La possibilità Di un tower dive Non è poi così bassa Inarrestabile Utilizzata da parte di acid Testata difensiva Immediata Non dà tempo Per utilizzare Il king's layer Onestamente Un dive Su sonataric È una cosa Che non farei mai Hanno una quantità Di modi Per mitigare Il danno nemico Enorme E il livello 3 Con i danni attuali Delle torri Non solo Anche l'exhaus Da parte di simpi Che va a mitigare Il grosso del danno Esatto Quella coppia Ha troppi modi Per salvarsi E continuano le aggressioni Da parte di Enz E Cospect Su quello Non c'è dubbio Se la stanno giocando Molto bene Vedere il support Con il triplo Del farm Del carry Da corsia inferiore È stupendo Andiamo qua In corso centrale Camille Che prova Ad aggredire Insieme a Virao Virao Però Semplicemente Va un attimo Ad aggredire A baitare Si lancia in avanti Camille Sul libri Del danno è sufficiente Flash difensivo E sarà l'ustione Del red buff A portare a casa Il first blood Camille Ancora una volta Protagonista Di queste azioni Primo sangue Portato a casa Dal suo Hecarim E se questo è un Hecarim Che voleva cercare Lo snowball Con quel conquistatore Di sicuro Portare a casa Il primo sangue È una marcia in più Nashik va A velocizzarsi Per continuare a danzare Intorno ai minion Che comunque Non ha bisogno Di andare a lastrittare E Questa è un'altra cosa Importante Ovviamente Simpi dalla sua Continua a dare manforte Grazie all'abbraccio Di Targon Questo è importante Tendenzialmente Avendo un carry Da corsia inferiore Che non vuole lastrittare Minion Tu devi pushare Guardiamo qua Il replay dell'azione In corso centrale Bellissimo Camille Davvero È riuscito ad applicare Il quantitativo Perfetto di danni Per permettere Al potenziamento rosso Di raccogliere Il primo sangue Nel frattempo A corsia superiore Isfoss è tornato Col teletrasporto In corsia Così anche Acidi Il trade Continuano ad essere Opprimenti Da parte di entrambi Non vanno sottovalutati I danni di Ornn Mai Mai Isfoss dal suo lato Ha uno strumento enorme Col Kingslayer Potersi curare Quando sei basso in vita Di così tanto È già Pericoloso Soprattutto il problema Principale Intanto Qui Potrebbe esserci uno lì In Acidi Costretto alla testata difensiva Isfoss Quanto sei aggressivo oggi Isfoss a breve Dovrebbe trovare Anche il livello 6 Cosa che andrà a sbloccare Il furto Delle evocazioni Del dio della forgia Non è facile La vita per Acidi Da quel momento in poi Acidi ha bisogno Di temizzare Aggressivamente Da subito Verso resistenze E infatti vediamo già Il mantello antimagia Virau ancora una volta Aggressivo nei confronti Di Librid Trova colpo su colpo Sul suo avversario Robin in corso centrale Arriva il pugno Il danno c'è Costretto a flash difensivo Immediato Virau Ok Ma Robin scambia In questo modo Il flash Con quello del mid laner Nemico Il flash è uno strumento Di ingaggio Molto importante per vi E Qua vanno per l'ingaggio Su Enz Costretto immediatamente La cura Salta attraverso il muro Camille Pronto ad ingaggiare Cospect adesso Verrà ingaggiato lui stesso Rallentato addirittura Dall'exhaust Di Simpy Mandano a casa La bottom lane Degli Sparks Potrebbero andare Per l'aggressione Sul Drago La cosa veramente Frustrante di Tarixona È che a un certo punto Diventano ingestibili È un duo In corsia inferiore Che ha zero counterplay Se non viene gestito Nei primi minuti E questo È proprio Frustrante Frustrante Per carità Sto dicendo frustrante Solo per giocarci contro Dall'altro lato Invece Nashik e Simpy Sono felicissimi Di come stia andando Questa corsia Un doppio support Che va a bullizzare Uno dei tiratori Più prestanti Del meta attuale Ma ben venga E tutto ciò Poi si trasformerà In una pick carry Aggiuntivo Fa strano vedere Nashik giocare Effettivamente Questa zona Sai cosa Spesso e volentieri Abbiamo visto Durante quello che è stato La fase di funneling Che magari Mid laner E gli ad carry Si swappavano La posizione Invece qui L'avrei visto Virau su zona Dici Dopo aver visto Quella partita di Lulu Vabbè in effetti Vedremo Vedremo adesso Come Enza e Cospet Decideranno di giocarsela Anche perché comunque Nonostante L'averli forzati Via dalla corsia Abbiamo Tristana Che non è che ci metta Molto a riprendere Priorità istantanea Non hanno bisogno Di lastitare i minion Nashik e Simpy Ancora Non essendo stata Completata La missione Associata all'oggetto Da support Non è un problema Perdere risorse Sotto torre L'importante È essere arrivati Lì in tempo Per non perdere Esperienza Un altro Problema grande Che Son e Tarik Vanno a generare È che aver flexato Un tiratore Sulla corsia Centrale E avere Kamil Con Ekarim Dalla propria Significa avere Ekarim Che da invulnerabile Può ingaggiare In mezzo al team nemico Ed è libero di fare DPS Grazie alla gemma Del guerriero Significa avere Virau Che viene Catalizzato Dalla presenza Di due support Sulla corsia inferiore La composizione Di Samsung È gran bella È qualcosa Che non ti aspettavi Da parte loro Non Non in questo momento Mi sarei aspettato Piuttosto su Una fase più avanzata Su una fase Magari Non dico più disperata Ma piuttosto più difficile Magari sono sul 2 a 1 Per i Samsung Per gli Sparks E dici ok Tiriamo fuori Questa strategia Invece Samsung Vanno aggressivi Come è loro natura Decidono di prendere subito Il secondo punto Su tavellone E provano a farlo Con questo Decidono Di provare 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 Ovviamente Provare Vogliono la chiusura Vogliono ingaggiare Su Simpy Tentativo di stun Che potrebbe andare a segno Robin stava arrivando E quindi si ritirano Immediatamente Di Samsung Ma molto metodici Samsung Perché qui non hanno investito Letteralmente nulla Per mitigare L'ingaggio avversario Continuano a scambiarsi Le aggressioni nemiche Adesso Nashik ha completato La missione Dell'oggetto da support Il che significa Che adesso Si sentirà anche più libero Di incrementare L'introito monetario E con quella lacrima Della dea Che continua a staccare Sono libera di curarsi Non solo Devi anche considerare Il fatto che Entrambi i supporti Della corsia inferiore Di Samsung Su Morningstar Ora possono optare Direttamente Per il Trinket Rosso Quindi avranno Il doppio oggetto Da visione Perché avranno Entrambi l'oggetto Da supporto E il doppio Di strumenti Per rimuovere La visione Già E' meravigliosa Come strategia Io adoro queste cose Lo sai Adoro queste aberrazioni Del meta Che vanno a riscrivere Il come devi pensare Di giocare A League of Legends League of Legends Si sta lentamente evolvendo Anche l'esistenza La nascita Di questi flexpeak Su più corsie Durante questa stagione Perché questa stagione Ha proprio coniato Il termine L'ingaggio qua Su quella Che è la corsa inferiore Di Samsung Morningstar Sparks hanno investito Tantissimo Per provare ad aggredire Nashik Simpi Nashik Simpi Sta arrivando Camil dal fianco Robin mitica Il grosso del danno Grazie allo scudo Della passiva Arriva L'ingaggio di Ultimate Subito lo stun Nashik Costretto al flash difensivo Si salva Perché Camil Abbastanza danno Per eliminarli In tempo V Ci ha provato Ci ha provato Robin E l'impostazione Era anche interessante Nonostante la fragilità Di Sona Però Non sei riuscito A chiudere Sull'appi Carry nemico E questo ti porta A tirare le cuoia Portando i Samsung Sul 2 a 0 Portando i Samsung Su una gold lead Di 2500 gold Siamo solo al decimo minuto E anche questo Che è una kleptomanzia Ti dà sulla corsia inferiore Rivediamo il tutto Dall'inizio Che abbiamo Nashik Simpi Velocizzati Nashik Utilizza La propria Q E qui dovrebbe avere Già la sua passiva disponibile L'accordo di potenza Cospect si lancia in avanti Arriva la frattura glaciale Però qui la suprema di Sona Permette di prendere Il tempo necessario A non applicare Neanche lo stordimento Di Brom Quando Robin Cerca di imporsi Sullo scenario C'era Camil Ad accoglierlo Ed è stato immediatamente Quello che Gli Sparks Volevano impostare Come un 3 contro 2 Un 3 contro 3 E di conseguenza Non è finito benissimo Per loro Corsi superiore Qua nel frattempo Acefoss ha tentato L'aggressione Di coproti e acidi Non trovando niente Poi possiamo vedere Precedentemente Il cooldown Della ultima E' stato rubato Qua placatori di torre Continuano a essere Conquistate per mano Di Acefoss Applica ancora una volta Quello che è il demolire Il danno Sembra essere sufficiente Adesso Il punto è che Per quanto Le aggressioni Non abbiano portato Acefoss An' uccisione Comunque Acefoss Sta giocando Permanentemente Con priorità Sulla corsia superiore E questo abbiamo visto Che i risultati ha Sulla mappa Perché Camille Non è la prima volta Che è libero Di aggredire la corsia inferiore Non è la prima volta Che si trova libero Di prendere risorse Nell'andare a contrastare Quello che gli avversari Vogliono imporre Gli Sparks Gli Sparks Hanno un grandissimo potenziale Di scaling Tra Tristana E Cassiopeia E andare a mettere Anche un drago della montagna Dalla loro è interessante Perché va a sopperire A dei danni Sugli obiettivi Che finché Non vengono acquistati I giusti oggetti Non sono elevatissimi Una volta preso Il tormento Iliandric Per Cassiopeia Diventa facile Prendere un obiettivo Esatto Ma deve prima Arrivarci a quell'oggetto Nel frattempo Camille va a rispondere A quello che è L'aggressione sul drago Della montagna Per il messaggio dell'Alanda Quindi ancora una volta Strumento aggressivo Contro strumento da scaling Qui sta per scoppiare qualcosa Oh sono in quattro Adesso i corsi inferiori I Samsung Mornings Devono correre Simpi Che va a piazzare un lume Lanciano tutto quanto Su Sona Viene disintegrata Teletrasporto in arrivo Da parte Di Samsung Mornings Anche da parte Degli Sparks Viene rubata una ultimate Subito utilizzata La ultimate di Tarek Per salvarsi Sicura Lanciandosi su Enza Arriva finalmente Virau Trova la prima uccisione Troveranno anche la seconda La terza E ora Valissimo Mitovirao Potrebbe essere sufficiente Danno anche su Cospet E Librid No perché c'è Guardiano a proteggerlo Ma è forse Sei in catena Librid E porta a casa La quarta kill Della partita 4 per 1 Nel frattempo Camille in corsia superiore Ha preso la torre E sta prendendo Anche la seconda Distruzione totale Degli Sparks In un battito di ciglia Tutta la loro mappa Viene smembrata Quello in corsia inferiore Se non consideri La presenza della torre Dei Samsung Era un 5 contro 4 E ci sono morti In 4 gli Sparks Portando a casa Solo la vita Di Nashik Che non ha avuto Neanche il tempo Di ultare Tanto marcato È stato il lockdown Sulla sua zona La zona è fragile È normale che sia così Ma guardiamo Il replay dell'azione Perché quello che hanno fatto I Samsung È stato splendido Si rendono conto Che gli avversari Vogliono andare a divare Perché hanno visto Librid nella trifronda Grazie al lume di controllo Da parte di Robin Arriva il flash in avanti Per bypassare Simpy come frontline Trova il knock up Ma prende anche tanti danni Dalla parte della torre E qui Ha si distordito sotto torre E arriva la radianza Cosmica di Taric Che va a proteggere Acefoss Cosa che ha permesso Ad Acefoss Di ingaggiare In seconda battuta Virau va a smembrare Il team nemico Scatto dopo scatto Dopo scatto E qui L'ultimo colpo di genio Acefoss Con la passeggiata Intorno al miasma Va a chiudere sull'hybrid E permette a Virau Di prendere un'altra kill Questi Samsung Sono fuori di testa oggi 25.600 goal Da 20.000 Sono soltanto passati 14 minuti scarsi E sono già 6.000 unità di vantaggio Quasi 6.000 Bello Wow Piacevole Piacevole Sono Taric Botley Signore e signori Allora E che Te l'ho detto prima Dai Vare quella coppia Non è facile Sono due support Hanno la capacità Di mitigare una valanga Di danni Ne hai ucciso uno Ma Taric era lì E la cosa che ha portato Solo nella morte Inoltre Era la non disponibilità Della radianza cosmica Letteralmente per una manciata Di secondi Simpi ce l'aveva dopo Per mitigare la seconda Parte del dive E niente Si trovano a scambiare Davvero troppo Se non consideri poi Appunto Le due torri perse In tutto ciò Perché Camille Non era neanche presente Nello scenario Adesso presente Invece in corsia inferiore Attiva la carica Immediata Per provare a ingaggiare Su Enz Invece si lancia Su Cospect Stordito Adesso Della passiva Trovato il knock up Si lancia in avanti E va a bloccare Ancora una volta Cospect Virao costretto A essere Ingaggiata a parte di Robin Utilizzata la ultima Da parte di sua Radianza cosmica Su quattro Doppia uccisione Da parte di Sartu Morris Anche Enz Viene chiuso Perché Camille Ricarica in avanti Per quanto Librid Si è arrivato Conte del trasporto E usato la ultimate Non trova niente Acefoss ingaggia Sul suo diretto avversario Prova a bloccarlo Il danno però Da parte di ACD È enorme Costretto adesso La fuga a Acefoss Anche qua però Librid è costretto La fuga Lo stun di Tarik C'è Nashik E Camille Stanno arrivando Dal fianco Cos'era quel danno Da parte di Sona Ostruoso Arriva lo stun Arriva la carica Nemmeno serve la carica Perché Nashik Dalla distanza Un colpo Di Mandolino E va effettivamente A portare a casa La kill Qui È Sona full AP Ragazzi Non si può sottovalutare Il danno di Sona full AP Quella Ok È un support Come categoria di campione Ma buildata in quel modo Ogni accordo di potenza Sono una marea Di danni E niente Si trova ancora a cadere Librid in corsia centrale 0-3-0 La sua Cassiopeia Non è il punteggio migliore Per scalare in partita I Samsung Morning Stars 10-1 Sono giganteschi Penso che Di nuovo Li hanno colti di sorpresa D'accordo Cogliere di sorpresa È un conto Ma qui Guarda qui Camille Ancora una volta Va ad ingaggiare Le attenzioni sono su di lui L'inarrestabilità Durante l'assalto delle ombre Di Ekarim Lo porta ad evitare La frattura glaciale Cercano di chiudere Su Virau Ma la radianza cosmica Su tre persone Va a rompere Tutte le uova Nel paniere avversarie Camille era uscito Nell'ultimo momento Dalla radianza cosmica Solo per fare il giro lungo E chiudere su Enz Voleva caricarlo indietro Verso il proprio team È normale Ma infatti Avevo visto quattro L'aveva canalizzata inizialmente Ed erano quattro tutti lì Poi Camille ha detto Aspetta Io faccio il giro lungo Il punto è che Quella radianza cosmica Ha cancellato Librid Dell'equazione Librid era sul fianco Dalla trifronda Ma non poteva fare danno Perché gli avversari Erano invulnerabili La torre blu In corsia inferiore Nel frattempo Cade Nonostante l'arrivo di Ace Su quel lato della mappa Siamo arrivati A 16 minuti di partita E questo è il secondo drago Che appare sulla banda Drago della nuvola Per Ekarim Quello è letteralmente A di bonus Per Ekarim E letteralmente Statistiche in più Perché Offrendo comunque Seppur meno Velocità di movimento Anche in combattimento Un Ekarim Con gemma del guerriero Un Ekarim Con virtù della triade E conquistatore Adesso come fai A tenerlo fermo Come fai a tenerlo fermo L'assedio Su questa corsia inferiore Acid Adesso stordito Da quella che è la ultima Dynashic Arriva anche Sipi Con il suo stun Andranno a bloccare Acid No perché c'è un ottimo flash Ma arriva la carica di Kamil Bastano e avanzi I danni di Acefoss Per portare a casa Un'altra kill E questa sarà La seconda struttura In corsia inferiore I Samsung La stanno smurfando Sì Non c'è altro modo Per dirlo I Samsung Quello che stanno facendo I loro avversari È maltrattamento puro Mi stanno bullizzando E per quanto Sonataric Sia frustrante Da affrontare E me ne rendo conto Ma quello che stanno facendo adesso Inoltre Devi considerare Che Sona Andando a velocizzare Guarda Esfoss che va a lanciarsi in avanti Su Cospet Utilizzata la radianza cosmica Rende tutti quanti immortali E quindi possono Premettersi questo dive Arriva Il controingaggio a parte di Robin E questa è una kill In mano a Libri Da Rivaorda La distanza finalmente Con la sua ultima E trova il knock up Su Nashik Ma non basta Assyri testata sul muro Per lanciare per aria Kamil Robin qua bloccato In mezzo a più avversari Costretto al flash difensivo Sta andando in seguimento Di Samsung Mordister Ma avranno Soltanto la vita di Esfoss Tutti questi danni devi considerarli In una situazione Dove Lucian Non ha ancora chiuso La mannaia oscura Dove Sona Non ha ancora chiuso Il terrore dei Leech Tarik sta andando Per una maschera dell'abisso Pur di andare ad amplificare I danni magici Della compagna di Corsia E adesso Virau Vuole ingaggiare Sugli avversari Però no Scatto all'indietro alla fine No Non è scatto all'indietro Perdonami Enz l'ha ultato via Ok Scelta Dovevano salvarsi In qualche modo Hanno visto Un Lucian 403 Correre in faccia A un support E un ADC isolati Hanno detto Disingaggiamo Non diamo gli altri risorse Sono troppo grossi al momento Direi che rispettare I propri avversari Quando hanno Quasi 10.000 gol di vantaggio Sia anche molto sensato Esfoss Sta andando comunque Per una build of tank Su Sylas Abbiamo il velo glaciale Quindi sarà Guanto del gelo per lui È interessante E al tempo stesso È un'ottima scelta Se consideri che comunque Il resto della compagine Dei Samsung E non è di certo Povera in danni Vedremo Vedremo Perché considerato Un Ecarim Con una virtù della triade E una gemma del guerriero Come dicevi Una mannaia oscura E una lama del re In rovina su Lucian Taric Sona Che per quanto Puoi sottovalutare Il loro danno Non è roba da poco Soprattutto per Sona Puoi sottovalutarlo Ma ti consiglio vivamente Di non farlo Non è molto saggio Sona adesso è lì In corsia centrale Non il migliore Dei potenziali di push Per quel campione Però adesso C'è Virau A dargli manforte Abbiamo lo spostamento Verso la giungla avversaria Barone Nashor Che andrà a palesarsi Sulla landa Tra 18 secondi E ovviamente I Samsung Vogliono prendere Controllo di visione Della metà campo nemica Asidi cerca di Imporsi Cerca di far capolino E' l'unico Con un naso Abbastanza resistente Da poterlo Estendere Oltre la linea Di metà campo Intanto qua Tentativo di ingaggio Da parte degli Sparks Lanciano tutti Tutto nei confronti Di questo Lucian Sarà costretto Al tentativo di flash Attraverso il muro Che non va a segno Quindi la serie Viene interrotta Ottengono quindi Questo importante kill Shutdown grosso anche Non solo uno shutdown grosso Ma è anche una situazione Che va a bloccare Seppur virtualmente Il potenziale di push Dei Samsung Perché i Samsung Stanno giocando Come se non avessero Appena perso Il proprio mid laner Continuano aggressivissimi Sulla corsia centrale Continuano ad imporre La priorità Lì e in corsia superiore In modo da avere controllo Sul quadrante superiore Di giungla Penso che più Tosto che aggressione Lo vedrei più In ottica di Continuiamo a mandare I minion contro In modo da poter fare Quello che vogliamo Sul resto della mappa Come dicevi tu In questo caso A livello di visione Adesso Camille Che anche lui Dalla sua è enorme Ha già Il cronografo E come prima Immagino Sarà un Angelo Custode Ne ha bisogno Ekarim Deve lanciarsi in mezzo E tornare in vita Sì però capisci che Angelo Custode Radianza Cosmica Sono a velocizzarlo Non è facile Tirare giù Quell'Ekarim E Aveva preso Doppio cristallo di rubino Ok Pegno di Sterak Sì a questo punto Doppio rubino Per i jungler E tendenzialmente Pegno di Sterak Non penso che vada Per una Wormog Adesso Arriverà il martello Ghiacciato Per Ekarim Ekarim che rallenta Come un altro attacco No No Come Gnar prima Virau Corsia centrale Continua ad accumulare Risorse locali Che gli vengono conferite Anche dai due support A lui vicini Dalla distanza Era arrivata Una Q Da parte di Nashik Però Non c'era la passiva Disponibile Stanno andando per il drago Adesso i Samsung Morning Stars Che sta per sponare Mancano una decina Di secondi scarsi Un po' timorosi Che gli Sparks Possano girarsi Sul barone Nashor E provare a scioglierlo Col drago della montagna Si risposta Di corsi centrale Per mettere una pressione Più alta E tentano addirittura Di bloccare Quello che È Una conquista Dei semplici lamabecchi Enz Richiamo base Cancellato Costretto al salto razzo Samsung Morning Stars Accompagneranno Questa ondata di minion Fino Alla torre E poi andranno per il drago Drago della montagna Che va a pareggiare I danni bonus Su strutture Ed obiettivi epici Che già il team nemico Aveva messo dalla propria Siamo in una fase di partita Dove un drago del genere Ti serve Perché comunque Lucian È l'unico ad avere Dei danni percentuali Davvero costanti In quella team comp E se vuoi andare a chiudere Su un barone Nashor In fretta Vuoi il drago della montagna Dall'altro lato invece Il tentativo Di difesa Della torre In corsia centrale È fondamentale Perché ti serve Quel baluardo All'esterno della tua mappa Per continuare Almeno a poterti Spostare liberamente Quella torre E gli sparks Devono difenderla Ad ogni costo E Il punto è che I samsung Dall'altro lato Stavano cercando Di impostare Un push marcato Ma Non si è davvero Concretizzato finora Secondo te Stanno aspettando Un power spike ulteriore Come il terrore Delice su Sona O semplicemente Stanno prendendo tempo Aspettando che gli avversari Vadano a commettere Un errore Vogliono punire un errore Secondo me Come stavi dicendo tu adesso Penso che Se Puoi punire È più facile punire un errore Piuttosto che andare A fare un'aggressione Marcata Contro quel team Pensaci bene Cassiopeia Horn Brom Non è facile Aggredirli È vero Se sei in un 5 contro 5 A testa bassa Non è facile Tirare una testata E vincere E invece adesso Vanno per il barone Nashor Decidono addirittura Di andare a provocare L'obiettivo Sotto la visione nemica Perché stavano attaccando Un lume Quindi sono stati spottati Ovviamente Forzare un combattimento Intorno al barone Sarebbe la situazione perfetta Però ha già perso Metà della barra degli HP Questo barone Nashor Quindi è molto pericosa La situazione Arriva L'evocazione della forgia Bello il muro Da parte di Cospex Per bloccare Il tentativo di ingaggio Arriva la radianza cosmica Su più persone Camille Inarrestabile Utilizzata la ultimate Va a bloccarli tutti Grazie anche alla ultimate Di Sona Che va a stunarli Robi in quarto Utilizza il suo ultimate Ma è già troppo tardi È già morto Incatenato Assi di costretta Festa diversiva Cospex subito protetto Dall'indistruttibile Enzco E continua a caitare Ma non basta Ah sick Quanti danni fai E non ha ancora Chiuso il terrore De Lich Ce lo ripeterò Un paio di volte Penso Finchè Finchè non lo verrà Completa Barone Nashor Adesso è lui L'obiettivo Del team dei Samsung Morto Robin Non c'è possibilità Di contesa Asidi sul Sworn Non ha un libro Di incantesimi Ne Cospet Ce l'ha Per poter Prendere Una punizione E niente Barone Nashor Per i Samsung Morningstars Gold lead Di 10.100 Unità sul tabellone 13 a 3 5 torri a 1 Dominazione Totale Incontestata Ha chiuso il terrore De Lich Posso smettere Di ripeterlo Bene Ora che abbiamo Questa informazione Il fatto è questo Come fai ad aggredire Parlavo prima Di come fosse difficile Aggredire gli Sparks Come fanno gli Sparks Ad aggredire I Samsung Morningstars In realtà Non possono Perché ci sono Tarik e Sona Ed è Questo che rende Frustrante quel duo Acefoss Un'altra caratteristica Molto importante Della sua presenza La andiamo adesso A commentare Con il replay Dell'azione Perché Quando I Samsung Hanno deciso Di forzare L'ingaggio Sul barone Nashor Acefoss Aveva già rubato L'evocazione Del dio Della forgia A Orn Cosa che ha permesso Un ingaggio Forzatissimo Quella ultimate Di Sona Quanto male ha fatto Ha tolto Mezza vita Enzi Insieme alla ultimate Di Ekarim E guarda qui Guarda quanto pressante È la capacità Di lockdown Guarda quanto riescono A rimanere appiccicati Al team nemico Quando Asic aveva Il potenziamento Della corda Che rallentava Avesse utilizzato Quello dell'attacco L'avrebbe probabilmente ucciso Intanto caralizzazione Del cazzottone Da parte di Robin Ma niente da fare Crolla la torre In corsia Centrale Adesso Continua l'assedio Sulla corsia centrale Nashik Preso fuori posizione A partire Robin Però potrebbe essere Robin preso fuori posizione Infatti Grazie alla radianza cosmica Si possono girare Vanno ad aggredire Eisfos ruba La ultima di Cassiopeia Robin Qua Figliolo Resettati Calmati Non era così fuori posizione Assedio sulla corsia inferiore Perché Eisfos Ha accompagnato L'andata di Minions Sanzo Morningstar Pronti all'assedio Anche su questo inimitore Che cadrà in tempi brevi Preso in questo istante E ora Vanno per l'aggressione Il push In corsia centrale Stanno davvero Eisfos è lì A tenere in scacco Tutta la composizione nemica Grazie allo sguardo Pietrificante Questo è importantissimo Vanno a trovare lo stun Ai danni di End Ultime da partire Assedio Che trova il knock-up Su 5 persone Si lancia in avanti Camilman Una più umana Cospect prende un bel po' di danno Grazie all'indistruttibile Si salva Ma trovano la kill Ai danni di questo Silas Doppia uccisione Nel frattempo Da parte di Rao Perché è stato libero Di fare DPS E ora è libero Di fare DPS Sulle torri del Nexus Che cascano Una dietro l'altra Appena è tornato in vita Robin IV Ma non basta Non è abbastanza forte Come front line Per permettere End Di fare il danno E questa Sarà un'altra kill In mano Ai Samsung Morning Sun E questo è il 2 a 0 Per i Samsung Morning Sun E che dire Ladies and gentlemen Questo è il match point E questo è un match point Che non sembrano neanche Essersi sudati Unidirezionali Devastanti Questi Samsung Non c'è niente Che potesse arrestare Quella combinazione Di campioni In corsia inferiore E se associata Ad un icarimmi in giungla Hai appena distrutto Gli Sparks Ne hai distrutto La psiche Oltre che la composizione Questo è pericoloso Come situazione Perché gli Sparks Erano entrati In questa serie Belli carichi Convinti Ora sono quasi Sull'orlo Della sconfitta Perché sono sul 2 a 0 I Samsung Morning Stars Onestamente Ti saresti aspettato L'apertura della serie Con il 2 a 0 Dei Samsung Morning Stars No Sinceramente no Mi aspettavo magari La prima partita Perché dicono Giocano super aggressivi Fin da subito Colgo un po' di sorprese Degli avversari E poi gli Sparks Si adattano immediatamente Ma direi che lasciamo Agli analyst la parola Quindi È di noise Vai È tutto tuo Grazie Eternas e Karen Siamo tornati quindi qui Nuovamente al desk All'analyst Dove andiamo ad analizzare Nello specifico Quello che abbiamo visto Cosa abbiamo visto? Tanto sangue Nuovamente tanto sangue Samsung Morning Stars Un'altra accelerata Sono in quarta adesso Vedremo se la prossima Eterrando la quinta E sarebbero Di problemi grossi Per i Campus Party Sparks Si perché Da un lato appunto I Samsung Morning Stars Sono arrivati in questa finale Come sfavoriti In teoria Dopo queste prime due partite Sembra di vedere Un'altra squadra E adesso mi sento Molto più sicuro Nella mia prediction Sembra che proprio La furia Dell'evento live La folla Li stia proprio incitando A performare A livelli Fenomenali Sì ora stiamo vedendo Quelle che erano le prerogative Che dicevamo che E se succedesse così Effettivamente le draft Dei Samsung Hanno fatto un passo in avanti Mostruoso Cioè questa draft È stata stupenda Tanto io Quanto Cristo Eravamo a conoscenza Del fatto che Viro giocasse Lucian Mead Però è stato chiamato In modo veramente Veramente interessante E qui un'altra volta I Samsung ci mostrano Il loro vantaggio strategico Nel poter carriare Da tre differenti linee In questo caso Avevano un carri in top Un carri in mid lane E sostanzialmente Una bot lane Che rendeva impossibile Agli altri giocare Quindi negavano I carri avversari Ma L'errore più grosso È stato l'impostazione Di macro game Sì Mamma mia Gli Spark hanno fatto Parecchia fatica Soprattutto lo vediamo Attorno a questa Corsia inferiore Abbiamo visto gli Sparks Cercare sempre Di forzare Un'aggressione Su questa bot lane Di Tarixona Che sono Praticamente Infrangibili Puoi cercare di attaccarli Puoi cercare di colpirli Puoi cercare di sfondare Il vetro Ma non si inclinano mai Sono sempre pronti a reagire E ogni volta che vedevamo Robin Correre verso questa Corsia inferiore Per cercare di influenzarla Era praticamente Una battaglia Già persa in partenza Perché difficilmente Riuscirai a Uccidere Una della due di Tarixona Con tutto quel sustain Tutti quegli scuri Tutte quelle cure Come fai? Assolutamente L'unico momento In cui quella bot lane È vulnerabile È sostanzialmente Prima di fare il 6 Una volta raggiunto Il livello 6 Non c'è modo La debolezza Di Tarix Se vogliamo Sta nel caricamento Dall'ultimate Quindi nel suo channeling Ma Senza nessun problema Sona Con la propria ultimate Da tutto il tempo A Tarix Di completare il channeling Il che lo mette In una condizione di fight Assolutamente Vantaggiosa e dominante Ma l'abbiamo visto Effettivamente In alcuni fight Quando proprio Nel momento culmine Dove i Sparks Dovevano entrare Enz si avvicinava Partivano subito Camille entrava Sicuro per l'appunto Della Suprema Abbiamo visto anche Nell'ultimo fight Pre Baron O meglio Inizio Baron Stop e poi nuovo Baron Quei sono entrati In gamba tesa Sparks Hanno provato a reagire Con Enz Enz è dovuto saltare Fuori dal team fight Perché si è ritrovato Tutta la composizione Avanti Additura Nasci Che ha tirato Quell'ultimo colpo Che ha tolto L'ultimo quarto Praticamente di vita Ok Leach Bale Suona Sì Sostanzialmente Sostanzialmente Per gli Sparks È sempre stato un po' problematico Cercare di reagire Dopo l'inizio Così aggressivo Da parte di Samsung Morningstar E un po' Ti devi chiedere Se con tutta quella Tensione verso la corsa inferiore Gli Sparks Non si stessero Scavando la fossa Da soli Essenzialmente Perché puoi dire Sì ok Adesso La nostra Tristana Deve soltanto arrivare A quel giusto quantità Di oggetti Abbiamo anche una Cassiopeia Abbiamo due carry Da late game Veramente terribili Temibili anzi E Però quando continui a forzare Tutte queste aggressioni In corsia inferiore Dove Difficilmente riuscirai a trovare qualcosa Qui in questo replay Lo vediamo che Hanno effettivamente trovato Una kill su Sony Ma poi Hanno subito così Tanti danni Assi di chi addirittura Muore dalla torre Prima di riuscire a riattivare La propria Suprema E i Samsung Morningstar Con il teletrasporto Di Asus Pronti a reagire C'è da considerare Che durante tutto Questo replay Camille era al lato superiore Della mappa Si è fatto il messaggero Della landa Si è preso la prima torre Ha continuato a pushare E ha aperto La corsia superiore In favore del suo team Nel modo più assoluto Se questo fosse stato Il replay Che devo mostrare Alla mia squadra Non sarei andato Oltre al minuto Della fight Che abbiamo appena visto In un qualunque game Senza commettere Errori macroscopici Di dimensioni Gargantuesque Inventiamo anche nuovi termini Un termine verissimo Fantasioso Il game è completo Non c'è modo Di uscire da quella condizione Specialmente quando Gli Sparks Si sono trovati a draftare Una comp con due carry Due hyper carry Da late game Horn Per rendere possibile Lo scaling Anticiparlo E renderlo ancora più alto Lo spike in late game Per poi cercare azioni Durante l'early game In bot lane Contro la linea Che ha sicurezza E crowd control Anziché andare a Fare babysitting Sulla mid lane Quella fight Non si sarebbe mai Dovuta spostare Da Lucian Si Che poi effettivamente C'è da dire una cosa Abbiamo già visto effettivamente In altri circuiti Su Anatarik Sapevamo Poteva essere Un'interessante possibilità Ma effettivamente Lanciarla così Al secondo game Lo dicevo anche prima Ti fa Ti dà pensare Ma lo vediamo anche qui Questo è stato un fight Molto importante Questo più che altro È stato il momento In cui Vedi un po' Quali sono gli errori Che possono fare Samsung Morningstar Perché Virau Molto aggressivo Si lancia in avanti Con Lucian Viene colto Da tutti i team Degli Sparks Che si rendono conto Aspetta ok Va bene che sei forte Va bene che sei avanti Però se fai questi Grandi errori Se continui a lanciarti In avanti Contro senza Previsione dei lati circostanti Perché l'abbiamo vista Nella play V è arrivata Fuori dal nulla A sorpresissima Per noi Figuriamoci per loro Quindi se continui a fare Questi errori Noi ti possiamo punire Ed effettivamente Quella poteva essere Un appiglio disperato Per gli Sparks Che una volta Sono riusciti a prenderlo Ma poi anche quello Si è scretolato Un appiglio tra l'altro Fornito da Un errore di micromeccanica Perché L'abbiamo detto prima Se Vai Viene portata all'interno Delle ultimate Di quella che è la botlane Dei Samsung Non ha modo di uscire Specialmente Perché nel replay Che abbiamo appena visto Era priva di Flash L'aveva usato Nella fight subito precedente Pertanto se Lucian avesse utilizzato La propria E Per avvicinarsi A Son e Taric Con Taric Che va in channeling Sarebbe stato un pick Dal prelato opposto Mentre qua vediamo La fight finale In cui In realtà Ormai c'era Poco da dire Bella l'ultimate In realtà di Librid Per cercare di ottenere tempo Ma il re-engage Con La sicurezza Offerta dai tool Della botlane Inecepibile È una di quelle situazioni In cui Piano piano Continui a dare risorse A una squadra Continui a Far Scalare I loro carry E arrivi al punto In cui è praticamente Ingestibile La cosa Quest'ultimo team fight Sì c'è stato un folle Tentativo da parte Degli sparks Di mantenere il vantaggio Sulla partita Di riprendersi un po' Di difendere la loro base Ma non ce l'hanno fatta Abbiamo visto carneficina Totale Per i samson monister Che hanno eliminato Tutti i membri avversari E si sono presi Anche il secondo game Che era quello che effettivamente Stavo dicendo Ovvero Il discorso di Andare a draftare Una cosa così Particolare Come Son a Taric Che dicevo In altri circuiti Abbiamo visto Molto molto potente Ecco Buttarla così Subito nel secondo game Mi dà questo mix Di impressione E di paura Che ora Messa la quarta I samson monister Vogliono mettere anche la quinta Perché no A giudicarsi così Il terzo match E una cosa importante Abbiamo parlato Tante volte prima Di Conoscenza della draft Hai aggiunto un altro Hai tirato fuori Un altro asse Una manica Hai tirato fuori Un altro jolly sul tavolo Son a Taric bot Adesso gli sparks Devono reagire in qualche modo C'è da dire Adesso sono gli sparks Ad avere nuovamente Selezione Del lato Della mappa Da cui giocare Quindi possono scegliere Di adeguarsi In già Partire un po' Avvantaggiati Diciamo in fase di draft Però avere questa Ulteriore cosa da considerare Cosa fai? Vai a spendere altri ban Iniziano a finire i ban Che ti sei prefissato Diventa Inizia a diventare Veramente problematico Draftare in maniera Fiduciosa Inizia a essere Un primo vincolo Anche perché Precedentemente Noi sapevamo che La top lane Dei samsung E la bot lane Sostanzialmente Presentavano Due e un pick AP Con Silas Kennen in top lane E Cassiopeia in bot lane Che permettevano Il pick di Yasuo In mid lane Questo dato La champion pool Del jungler Di Camille Che è completamente Di sostanzialmente Ora ci hanno mostrato Che hanno un altro Pick AD In mid lane Che quindi è una cosa Che rientra esattamente Nel loro playstyle E hanno ulteriori Pick AP Da proporre Oltre a questo C'è Una piccola nota Interessante Sono due Pigeonauts Che vengono giocati E sono due volte Che la squadra Che termina Prima Durante il regular split Perde Ad oggi Le finali Vediamo Se Gli Sparks Saranno in grado Di rompere Questa maledizione È un'impresa Decisamente difficile Perché adesso Non è più una Best of five Per gli Sparks Adesso devono vincere Tre partite di fila Per portarsi a casa La coppa E i Samsung Quindi hanno anche Molta più libertà Se adesso vogliono Essere loro A sperimentare A provare qualcosa Di draft Anche semplicemente Come dicevamo Il primo game Hai concesso Un po' la draft Agli avversari Hai detto Ok Otteniamo informazioni I Samsung Adesso hanno tantissimo Spazio per Ottenere informazioni Per giocare più tranquilli Però conoscendoli Conoscendo i giocatori Di questa squadra Mi aspetto Veramente Vedere le Pedale a tavoletta E ci prendiamo Il 3 a 0 Penso che se lo stiano Aspettando un po' Tutti Chi da casa Chi dal vivo Evidentemente Questa folla Sta spornando I Samsung More Sarà dare Il 110% Perché è quel 10% di differenza Che ti fa vincere Team Fight E si vede la differenza Effettivamente Qui C'è una piccola nota Che favorisce Samsung Le due note mi piacciono Sono note piacevoli Non stoni In quanto La preparazione Che hanno sostanzialmente Sostenuto per le semifinali Sta tornando utile In questo momento In quanto Il playstyle Sostanzialmente Degli Sparks È molto Affine A livello di macro game A quello Dei Clash Forge In quanto Entrambi giocano Con Un giocatore Che gioca Sostanzialmente Principalmente Tanki In top lane Sono molto Dipendenti Dal loro jungler E hanno un carry Molto forte Nella bot lane Quindi vedremo Staremo a vedere Effettivamente Perché Come vedete Come sempre Sulla pressione Stiamo per arrivare Al terzo game Ma come sempre Noi ci prendiamo Una piccolissima pausa Quindi da Eddie Noise Moonboy E ovviamente Ryu Piccola pausa Ci vediamo Tra pochissimo Su PG Sports